Ciao, sono Piero Carninci. Sono il Presidente del Centro di Genomica di Genomica, il programma di Genomica di Genomica e anche il Presidente del gruppo di Tecnologia Humana. Ciao, sono Laura Carpen, studente di gruppo di Carninci. Ciao, sono Claudia Latini, postdoc in Piero Carninci Lab. Nel mio gruppo, si concentrano sul sviluppo tecnologico e poi usiamo queste tecnologie per capire e interrogare cosa fa il genoma. In particolare, studiiamo elementi regolatori, promotor e enhancer, e come sono usati in ogni cello del corpo. Abbiamo anche studiato la funzione dei non-non-coding RNA. In particolare, abbiamo scelto il loro interazione con elementi regolatori e, più oltre, abbiamo concentrato su una classica specifica di anti-sensore RNA, chiamata SYNAP. Il mio progetto è studiare SYNAP, che sono i primi non-coding RNA che possono controllare positivamente la proteine sintesi. Il focus della mia ricerca è studiare l'interazione che occorre tra chromatin e RNA, investigando, soprattutto, la parte del non-coding RNA in order to figure out un nuovo meccanismo biologico di RNA che regolano l'attività di chromatin. e capire questo potenzialo di non-coding RNA è anche importante, ed è anche cruciale per identifichere nuove terapeutiche per la medicina futura personalizzata. Il Tecnopole è speciale. Quando abbiamo il risultato di ricerca, possiamo discutere e interagire con i colleghi, non solo da SYNAP field, ma anche con i colleghi con i colleghi con i colleghi simili e complementari. Il più interessante di lavorare qui è di rispondere ogni mattina e di essere sicuro di imparare nuove cose ogni giorno. La migliore opportunità che mi ha dato il Tecnopole è stato di trovare un ambiente molto amico e una famiglia lavorare. Penso che è molto importante da partecipare per trovare colleghi e anche amici che puoi divertire e che puoi fare risultati con felicità. Una delle migliori opportunità che mi ha dato è stata la possibilità dopo due mesi in il PhD programma di andare a Japan in un altro laboratorio dell'API e questa è stata un'esperienza che mi ha richiesto da molti punti di vista ma soprattutto da un livello scientificico. Se posso descrivere il Tecnopole in tre parole posso dire che il Tecnopole è innovativo internazionale e anche collaborativo. Il PhD per me significa crescere e questo è possibile grazie a la persona che ho lavorato con. La mia passionazione per la ricerca non sarebbe altrimenti e il PhD per me significa un'esperienza 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 eccellente internazionale dell'internazione Science e la ricerca non sempre è un'esperienza ma se vogliamo fare la scienza qui avremo tutti i consigli tutti i tools e tecnologiche che bisogna per successare in la scienza diciamo